Ma ditemi che sto sognando, ma veramente Parenzo ha detto che il velo è come la minigonna, ma sto sognando, è un incubo, cioè nel senso è un sogno e mi risveglierò e Parenzo continuerà a dire delle cose normali, cioè hai detto una puttanata simile, il velo è uguale alla minigonna, ma vai affanculo Parenzo, vai affanculo Sì, 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 no, 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 ho detto che in Occidente dove c'è libertà, metterlo è libertario quanto la minigonna, non falsificate quello che ho detto perché io ti porto via tutto, ti porto via la radio, io ti querelo, io ti porto via tutto, Io ho detto una cosa molto precisa Furbetto del Covid Trio del Covid Trio del Covid Trio del Covid Trio del Covid Ho detto una cosa precisa Ho detto che in Occidente Mettersi la minigonna Ma che vuol dire? Certo che stiamo in Occidente Chissà perché la minigonna non la puoi mettere in Arabia Saudita E' l'utile che batti Che spasci il tavolo alla 7 Poi lo dobbiamo ricoprare noi Ho detto che in Occidente Ho detto sono tavoli indistruttibili questi A differenza di quelli Non farmi parlare Allora quello che ti volevo dire E' che io ho detto che in Occidente In Occidente Metterla in Occidente Se è una scelta libera Ma non è la stessa cosa Quella è il simbolo dell'oppressione Muogliono un sacco di donne nei paesi arabi Per la loro volontà di essere liberi No aspetta Cosa dici sicuro io? No 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 è la corte che dice sì Io dico no No Sì Ma no sì E no